...sulla renocchio del Rallying Experience quindi quando si chiuderà la nona, l'ottava prova inizieranno praticamente subito con la prova numero 9 l'ultima prova del Rallying Experience di Marsa Trattonaiati eccolo qui il 125 renocchio della Rallying Sport numero 135, stiamo seguendo la terza vettura della R3C vedete che la prova effettivamente non ridurrà né vantaggi né svantaggi a meno di colpi di scena come questo che ci regala Berlino in questo momento e se si incastra e puoi derivare il tuo valore e si segna 6 secondi dalla testa occlusiva di questa loro fatica che si chiama Monster Energy Monster Rally Show lo ricordo che alle 14 partirà alle 14-15 partirà veramente un momento molto bello, entusiasmante ma molto emozionante c'erano tutte le autorità cittadine c'erano soprattutto tante, 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 tante persone tutti appassionanti o gente che per caso si è fermata a vedere che fotografie distribuita o fotografie sono gestito con il mio contatto fisico con la gente del Monster Energy Show e poi la partenza di tutte le vetture hanno attraversato le vetture in modo che confermasse la sua vittoria oggi nell'ultima prova, quella che stiamo seguendo seguita anche dalle telecamere che si chiama Monster Energy Stage comporterebbe a 6 i successi della Monster Rally Show diventerebbe l'ultima RC la RC che ha vinto la classe e quindi merita il nostro ringraziamento speciale sono pronti a partire con il numero 123 il titolo Meda e Pietro Meda i versi classificati della classe R4 e per effettuare il terzo e il quarto cambio di direzione eccolo che arriva il terzo molto, abbastanza bene il quarto è morta via, 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 via Guido Meda della classe R4 perché a meno che non sia partito anche Marco Belli insomma ho visto l'altra di Spicci e l'abbiamo persa perché Andrizia Pedrosino in Monica Ciclini che vuole riprendere velocità andare al terzo cammino in direzione e vediamo il terzo cammino in questo momento a risultato facendo pratica sostanzialmente il terzo cammino in direzione è una scolta e questa è la vettura la nuova vettura si è messo meraviglia nella classe di appartenenza la nuova la classe di R5 e questa invece è la vettura che non è nessun e le sue caratteristiche tra peggie tetti l'altra vettura tutta alla fine è una Peugeot 207 della classe e si sono comportati e va a cercare il terzo cambio di direzione e il suo Paschini di Alessandra Penidenti arriva e la fa girare ancora molto bene vai Raquel ora andiamo alla quattro cambio di direzione con estrema deciso un aumento di battesimo che per la prima volta ho trovato in tanti anni c'è Barsanopio Re 1807 e Monica Fucca sono sempre la regina di Novi alla via è pronto anche il progetto 2 Mauro Trentino e Michele Colendi anche per loro finisce questa esperienza vanno a Barsanopio e in questo progetto istante ecco la nuova a Barsanopio a Barsanopio a Barsanopio a Barsanopio a E si era piantata il percorso, è partita credo anche la pittura del 113, è proprio così Massimo Guerrato e Marco Gattacci. Il parco A ricorderà a termine questo suo impegno, dall'altra parte abbiamo il parco partiti per la prova speciale numero 8 di questa edizione del Mozzarelli che vede ancora la classe R5 impegnata. In questa c'è credo la classifica della prova speciale numero 9, vedete neanche un minuto e mezzo per il pilota più efficace naturalmente. E' un'altra Porsche 997 RGT della Pester Resigno, è un'altra Porsche 911 affidata a Brugge, Spazio e Schemarini. E' un'altra Porsche 997 RGT della RGT che hanno conquistato il secondo e il primo posto, al secondo posto Andrea Mabellini e Virginia Linz della RGT 124 Amartin. Siamo in direzione in direzione, se non l'atterso, non l'imito, non l'azzo. E' importante a me fare il cambio iniziale improvviso, invece così non era. E' la numero 62, la prima R5 per la direzione 30, che è fatta di metterla in Italia, in Italia. Eccola la portiesta, e qui cominciamo la data di spettacolo. Eccola la portiesta, e qui cominciamo la portiesta, e qui cominciamo la portiesta, e qui cominciamo la portiera. E qui cominciamo la portiera. E poi, a partire anche dall'anno 45, e qui cominciamo la portiera, e qui cominciamo la portiera. E qui cominciamo la portiera, e qui cominciamo la portiera. si stanno preparando Ivan Napolinari di Adriano Poglio o Fiesta numero 3 no il Filippo è Fiesta il Filippo 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 il Filippo